Sebbene non migliori l'andamento delle piazze finanziarie cinesi, oggi in calo dopo il crollo di ieri, a Milano e all'Europa riesce il rimbalzo. Il Futsi Mib termina la seduta con un guadagno superiore al 2% e le europee risultano tutte in territorio positivo. Sul paniere di piazza affari gli acquisti si concentrano sui titoli bancari e sul comparto del lusso. In particolare sono ben comprate Mediaset Mediobank, Atenaris e Jux, invariate invece Pirelli e STM.